Sono qui oggi da Monte Carlo Re, Angelo Fiore, investimenti immobiliari di pregio. Peccato che lui non c'è, anzi ci sta, eccolo qua. Come questo libro? Sì, questo libro rappresenta quello che nel mio immaginario, ma presumo anche nell'immaginario di un professionista, siano le basi necessarie per investimenti di prestigio, che poi è il mio core business, perché la mia attività è orientata su quello che comunque è la compravendita di immobili di un certo livello. Il libro mi sta dando una visibilità e anche mette in luce quelle che sono le mie conoscenze che scaturiscono da 25 anni di esperienza nel settore immobiliare. Un consiglio che posso dare è quello di leggerlo sicuramente, anche perché delle basi che sono indicate nello stesso potrebbero essere foriere anche per chi magari non ha esperienza negli investimenti immobiliari per effettuare degli acquisti sicuramente favoribili e straordinari da un punto di vista. Vi saluto. Un'altra domanda, un'altra domanda. Oltre al libro tu fai video per acquisire mandati di case di prestigio, immobili di prestigio, e per vendere queste case. Ed è un altro passaggio, cioè i contenuti del libro poi vengono divulgati dai social. Sì, vengono poi chiaramente attraverso i canali social, coadiuvato anche dall'organizzazione di cui tu sei il mentore, vengono trasferiti attraverso questa forma di comunicazione digitale che ritengo fondamentale, visto ormai i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni. Quindi l'informazione attraverso i canali digitali è di primaria importanza. Infatti potete seguirmi anche su quello che sono i canali social di Facebook, Instagram, LinkedIn, anche il nostro canale YouTube Monte Carlo Re, e da lì acquisire anche delle conoscenze, anche delle indicazioni, anche di aspetti legali e giuridici e tecnici in relazione a quello che potrebbe essere la conoscenza di una conformità di un immobile urbanistico. E poi per il 2024 un'accademia formativa Monte Carlo Re, i workshop e i nuovi agenti. Dacci una visione, un'anteprima di quello che il tuo programma. Sì, i progetti che abbiamo noi di Monte Carlo Re e io che sono il legale rappresentante, nonché il CEO, sono quelli di chiaramente ampliare quella che è l'informazione che già stiamo dando attraverso poi delle nuove iniziative che sono accademie alle quali è possibile accedere anche sempre attraverso dei nostri canali dove verranno date delle indicazioni relative anche a quella che è la professione di agente immobiliare perché siamo continuamente alla ricerca di persone che abbiano questo tipo di predisposizione e che abbiano quell'atteggiamento giusto per gestire delle proprietà immobiliari di un certo livello. E quindi quello che può essere anche l'organizzare un workshop dove chi deve vendere casa oppure chi vuole iniziare questo tipo di attività, organizzare questi workshop sarà di fondamentale importanza per poter fare delle scelte mirate e ben oculate. Grazie.